Bentornati su MyFootballGersey. Vi mostro una maglia che adoro. Questa nelle varie salse l'ho già presa quattro volte e siamo solo a luglio. È ovviamente la prima maglia del Real Madrid in versione player. Alla prossima. Maglia spettacolare di uno dei miei giocatori preferiti, di Vinicius. Il costo lo vedete qui sopra? Sì, diciamo così, non c'è nulla da dire, parla da solo. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari. Quindi, beh, fate voi i vostri calcoli. Prima di lasciarvi alla parte finale, vi chiedo di iscrivervi al canale. È un gesto che a voi non costa nulla, ma che ci permette di offrirti sempre nuove recensioni. Per oggi tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.